Allora, buongiorno, è la seconda volta che partecipo al MIA in questa nuova sede che dà la possibilità al pubblico di visitare, di vedere praticamente tutto con grande facilità perché è organizzata benissimo e lo spazio è molto invitante. Vengo di nuovo con, ripropongo un mio architetto pittore che si chiama Marco Palmieri, è una giovane fotografa che vive in Irlanda, che non lascia mai l'Irlanda e che lavora con la natura e l'acqua, quindi fotografa la natura, specialmente quella che appare a fior d'acqua e soprattutto sott'acqua, quindi è un discorso molto poetico, anche se accattivante, certo, i fiori, l'acqua, sono anche molto decorativi, ma c'è una bella idea. L'altro fotografo è Marco Palmieri che conosco da anni perché ho cominciato a fargli delle prime mostre di acquarelli. Marco Palmieri, comunque lui è architetto, viene dalla scuola di Ettore Sozzas, è stato con lui gli ultimi sei anni e da poco, forse da due anni o quasi tre, che fa delle foto costruite in un modo molto particolare e anche molto poetico, c'è sempre in queste sue immagini la sorpresa, l'attesa, il silenzio, tutti questi sentimenti, specialmente in quest'ultima collezione che si chiama Standing on a Beach e quindi il silenzio della spiaggia che potrebbe essere una spiaggia nota o una spiaggia dei sogni, quindi c'è sempre questo silenzio, questo spazio che attira veramente tantissimo, tutti i passanti, tutti i visitatori del MIA si fermano qui e chiedono la tecnica, come realizza, dove si trova ed è invece un'architettura, secondo me quasi dei sentimenti, questa ed è ricepita molto bene, per cui l'ho fatto vedere anche per due edizioni ad Artissima a Torino e questa è la seconda volta che viene qua. Innanzitutto i quattro artisti che stiamo presentando sono tutti quanti di origine medio orientale, se vogliamo definirlo così, infatti abbiamo tre artisti iraniani e un artista turco, abbiamo un 50% di presenze femminili, infatti abbiamo due gentili signore, anzi, perdona, abbiamo due e due esattamente, due gentili signori e due gentilissime signore. Il filologico che unisce tutte queste rappresentazioni artistiche è dato dai problemi fondamentalmente tipici medio orientali, quindi la guerra, quindi la globalizzazione che va a incidere sulle culture locali fino praticamente a spazzarle via e molto spesso anche la condizione femminile che in determinate culture particolarmente tradizionaliste impone un ruolo esclusivamente domestico alla figura della donna, quindi sono opere anche molto coraggiose perché tutti questi artisti vivono ancora nei paesi di origine e quindi si espongono molto spesso a delle critiche anche abbastanza dure o ad altro ancora peggio. Qual è la ricezione da parte del pubblico, nel senso come sta andando questa edizione, visto anche l'impianto curatoriale in un certo senso del vostro stand? Siamo molto contenti e molto soddisfatti dalla risposta del pubblico, abbiamo riscontrato veramente un interesse massiccio direi su queste opere, rispondiamo continuamente a domande anche molto acute da parte dei collezionisti di approfondimento delle tematiche delle opere, abbiamo anche avuto parecchie conferme di opere e quindi siamo veramente particolarmente soddisfatti. La Galleria M77 di Milano ha voluto presentare questo progetto di Chiara Dinis dopo averlo esposto nei musei più importanti d'Italia, il Museo Marca, il Museo Bilotti di Roma e ha voluto fare un progetto con il QED, questa nuova lavorazione di Chiara Dinis dove si vede una doppia fotografia dell'artista con una base della prima fotografia e la seconda che si vince nella parte reticolare del quale. È un progetto molto interessante, molto nuovo dove si vede una cornice fatta con un metapilato e poi c'è un reticolare che va a dare queste immagini, vedo o non vedo, dell'opera in un senso. È un'opera molto interessante, è stata ricipita molto bene dai nostri collezionisti, molti visitatori sono rimasti molto interessati e sicuramente avremo dei buoni risultati in futuro. Quindi la scelta di presentare un'immagine fotografica non classica e anzi utilizzata a quel punto all'interno di un discorso artistico più complesso, più articolato, ha premiato molto e pensate che magari nelle prossime edizioni ripeterete questo tipo di operazione? Sicuramente faremo qualche altra cosa nelle prossime edizioni anche perché con Chiara abbiamo in mente un lavoro anche all'estero, vorremmo portare la Chiara anche nelle grosse gallerie di New York con cui noi collaboriamo, ma come galleria e anche per avere un'evoluzione maggiore della nostra attesa. Come sempre il grande pubblico, vedo tutti i milanesi che dovevano esserci ci sono, abbiamo gente anche a venire da fuori, sul pubblico niente da recepire. In questa occasione abbiamo deciso di portare, invece di fare la solita quadreria, eccetera, abbiamo deciso di sfruttarla facendo una mostra, una mostra personale di Robert Gligorov, anche perché in galleria passano 500-600 persone in una durata di due mesi, qui in 5 giorni la vedono in 20.000 per cui vale la pena per promuovere l'artista. Reazioni diverse degli adatti ai lavori del pubblico? Adatti ai lavori sono tutti complimentati, il pubblico, chi è abituato a vedere il lavoro concettuale ha apprezzato, i nuovi sono rimasti un po' scioccati da alcune immagini un po' forti, comunque tutto sommato soddisfatto del risultato. Diciamo, mi sembra un'edizione frizzante, userei questo tema, questa definizione, perché ho visto tanta gente, perché ho visto tanta gente curiosa. Temo che ormai le fiere, questa è la parte negativa, siano diventate delle occasioni per visitare delle mostre e che quindi si aprono sempre di più al grande pubblico, che con un biglietto tutto sommato non esagerato, ha la possibilità di stare in un posto meraviglioso come questo e vedere un impianto espositivo veramente ricchissimo. I collezionisti latitano, ma latitano non credo per responsabilità imputabili soltanto alla fiera. Evidentemente i collezionisti che vogliono comprare la fotografia di qualità non transitano dall'Italia, questo è il vero dramma. E quindi credo che l'impegno di tutti noi galleristi, di tutti noi operatori e naturalmente di questa fiera, che ormai è diventata una fiera fondamentale, deve essere quello di riportare i grandi collezionisti italiani e stranieri nel nostro paese, perché di qua non passano e non compra nessuno. Ma questo è un problema che riguarda il governo, che riguarda le tassazioni, è un tema veramente complesso di politica culturale, di strategia culturale che non possiamo certo risolvere in queste interviste. Però io sono grato all'organizzazione del MIA perché ci crede continuamente, perché ci dà la possibilità di avere un palcoscenico come questo, nel bene o nel male. Però noi ci siamo e vogliamo sostenere queste iniziative, vogliamo sostenere questa città che è sempre più bella, sempre più affascinante e che noi amiamo sempre di più.